salve a tutti qua è world game e oggi vorrei iniziare il mio percorso su youtube e l'inizio con happy wheels iniziamo non so quale scegliere scegliamo don't move ok già mi è partita una gamba stupendo va bene io fa forse non lo dovevo muovere tutto ingarbugliato ho vinto che culo non so come però vinto prima vittoria dai via io muestro no killer card vai dubbiso ciccioni usciglio oh minchia come va come funziona ok ok capito tanto calma uccidiamo tutti nessuno mi può uccidere bb ho vinto che bella faccina qua sopra bella bella ah scusate per la qualità poi perchè lo sto facendo con il cellulare e la videocamera mi dovrebbe arrivare a fine mese che si fine mese z minchia sono morto yeh vabbè molto soltanto all'inizio era figo allora poi vediamo questo ok amici boh non mi ricordo stan ho detto stan yeh non era stan usciamo da stolo rimanciamo tutto da capo ma non ho capito nessuna la risposta esatta per me non mi c***o questo e basta che mi arrivano i messaggi però eh dove faccio allora spacco tutti no non chiedere oh aaaaa capito capito non volevo rompere il video stupido rincolo il mio libro è quello che è meglio forse forse diciamo no lol no lol quello sopra credo che voi non vedete tutti in questo qua dove c'è scritto lol perchè eh il telefono non inquadra molto bene il computer vediamo allora ok no 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 so chi devo prendere so chi devo prendere tuffo dentro la piscina senza una gamba però no datemi le gambe v noo no, scrivo con il programma vediamo con il socio senza preoccuparci se pensare un po' di niente dopo non so però non so che sto facendo non capisco mai se è un maschio scusate voi non vedete aspettate quella la sulla finestra non si sa che si sta facendo ok oh raga babbo natale ecco perchè odio babbo natale odio i caricamenti su happy wheels ci mettono una vita beh ho voluto iniziare a fare video su youtube perchè così per divertimento credo perchè mi piace fare video e mi piace giocare quindi ho unito queste due cose ed è uscito l'idea di creare un canale su youtube poi anche guardando gli altri miei amici vabbè adesso ho cominciato vediamo kill jb vabbè stavo dicendo finisco almeno di parlare dei miei amici stanno pure su youtube loro e ho visto che anche loro molto si divertono facendo questi video non inviati il messaggio il giro tutto il calcio che figata no ho preso in pieno eh odio 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 ste cose oh che figata questo eh una luna il ciccione ok tizio pervertito che è un tizio non riesco a capire oh questo questo invece oh madonna morte proprio satanata qua ho vinto yeee dovrei fare tipo vediamo non so come si chiamano quelli che devi lanciare le biglie le balle là dentro dei cosi ci sta tipo kill poi hai vinto e là cose varie la 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 se si carica faccio l'ultimo e poi stacco semmai se ci mette troppo stacco adesso dai la 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 dai niente non si carica si è caricato ok da ultimo allora figata però non è quello che volevo stupido coso è divertente quindi non è l'ultimo finché non trovo quel coso lo devo trovare attettate no 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 già l'arrivo già l'arrivo voglio arrivare all'arrivo ma come faccio ho vinto ho vinto niente vabbè oh si eccolo questo qua non riesco a prendere non mi ricordo aspettato e non mi ricordo come si prendono oh ok no oh no ti prego no ti prego voglio rifarlo voglio rifarlo mi piacciono troppo questi dai 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 adesso ho capito come si prende adesso ho capito come si ho capito come si lo a wii will win sta la giù aspetta metto un po fio così così si vedete ah ah... eh... vede...grassi no 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 no! no 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 ti prego ti prego ti prego! tz zzz zzz...duo vince ti vince! lalalalalalalala ce la posso fare eh? con molta calma! l'ultima volta! lo giuro! aspetta posso ancora giocare no...è morto proprio! L'ultima è Press up Io l'ho preso E vince Dopo tipo 27 tentativi No è vero Se questo video vi è piaciuto Cliccate mi piace Cliccate su condividi E iscrivetevi Un bacione Ciao